L'attore, regista, sceneggiatore e scrittore Carlo Verdone è insignito del premio Flaiano speciale di narrativa per il suo libro La carezza della memoria pubblicato da Bompiani. Dopo La casa sopra i portici, sempre edito da Bompiani, fa un nuovo tuffo nel passato e dall'album dei ricordi e da una scatola che cade e si rompe attraverso foto e oggetti, lei racconta e condivide momenti indimenticabili della sua vita. Alcuni li aveva forse rimossi, l'elefante del circo Orfei è tra questi. C'era una fotografia di me, mio padre e i miei due figli piccoli al circo Orfei durante il periodo natalizio e quella fotografia in bianco e nero scattata da un fotografo del circo e poi regalata a mio padre mi ha fatto venire in mente un episodio che accadde al circo Orfei e quindi è un episodio molto simpatico, divertente. Mi ricordo che Liana Orfei fece entrare un elefante e disse e adesso tu devi andare a domangiare un grande attore perché lei era un'elefantessa. Lei fa il tuo stesso lavoro, lui fa il tuo stesso lavoro, quindi bisogna che vai là e gli fai un saluto speciale, forza vai. E' questo qua, l'elefante avanzato, è avanzato un grattacielo che si avvicinava, papà e i figli sono scappati, io sono rimasto là col pubblico che rideva e lei gli ha fatto forza un bel saluto. L'elefante ha messo il piede su una specie di barriera che c'era tra l'arena e i posti a sedere e mi sono visto veramente a quattro metri di distanza, ha alzato la proposta, ha fatto un bel rito e gli è partito, scusi, uno scaracchio che mi ha preso in fronte qua. Allora ho voluto ricordare questo episodio perché era un episodio veramente divertente, però il libro si basa ovviamente su degli oggetti, su delle fotografie che sono cadute da quella scatola pesante durante il periodo della pandemia e vedendo quelle fotografie, quelle lettere, quegli oggetti ho detto forse qua c'è materiale per scrivere ancora un libro di memoria, di ricordi. Quindi tra memorie e malinconiche, memorie divertenti, memorie tristi, memorie comiche come questa. Alla fine è uscito fuori secondo me una parte del mio carattere che spesso non riesco a fare vedere nei film perché nei film interpreti sempre un'altra persona. Invece il libro è totale libertà, è la libertà di poterti raccontare senza la pressione del produttore che sta dietro le tue spalle e ti dice qua devi far ridere, qua è troppo triste. No, io sono libero di scrivere quello che voglio. Ed è un libro molto sincero che mi ha dato tante soddisfazioni insieme al libro precedente La casa sopra i portici e adesso però credo di aver terminato con i libri autobiografici e di ricordi e di memoria. Se ci sarà un prossimo passo in futuro tenterò la difficile strada del romanzo, ci proverò, piano piano. E nel libro parla anche di suo padre Mario che genitore è stato e che padre è Carlo Verdone. È vero che non sa raccontare le favole? No, invece le so raccontare molto bene. Sui figli, non coloro che incontro. No, le so raccontare. E che gli raccontavo però tutte favole tristi e quindi loro a un certo punto si sono ammutinati perché ha detto che quella tristezza non li accompagnava nel sonno perché quando erano piccoli raccontavo sempre storie sui gabbiani della cornavaglia che mi ricordavano il film a maledetto il giorno che ti ho incontrato. Sempre storie di animali molto sfigati in qualche maniera che avevano un finale triste. Allora a un certo punto ho dovuto cambiare ma mi venivano meglio le storie malinconiche piuttosto che quelle comiche. Allora mi hanno dato un cartellino rossa e preferirono la mamma che gli raccontasse le favole. Però le raccontavo bene, solo che erano tristi. So perché. Un volume che sta riscuotendo tantissimo successo. Ha avuto gli elogi del Capo dello Stato, del Presidente Sergio Mattarella. Lei ha regalato una copia di questo volume a Papa Francesco. Lo ha letto e che cosa le ha detto? Non lo so se l'ha letto. Io penso che dovrà leggere tante di quelle lettere, tante di quei libri, tante quelle che chi lo sa. Io gli ho indicato attraverso un suo assistente magari due capitoli che mi avrebbe fatto piacere che lui leggesse. Però il Papa è un uomo molto impegnato. Chi sa. Però chi l'ha letto tutto due volte, il Cardinal Ravasi che mi ha chiamato, mi ha fatto i complimenti e mi ha invitato a pranzo per parlare. Quindi qualcuno della Chiesa sicuramente ce l'abbiamo avuto. E allora prossimo incontro con il Papa? Sì, comunque c'è un po' più di tempo magari ecco. Lei vive a Roma, lui in Vaticano. Siamo a due passi. Le sarebbe piaciuto farlo leggere anche a Degno Flaiano e cosa pensa che le avrebbe detto leggendolo? L'avrebbe apprezzato perché a me Flaiano mi ha insegnato molto. Flaiano mi ha fatto capire addirittura meglio Roma perché nessuno come scrittori, intellettuali, registi della parte est della nostra penisola, dell'Adriatico, del nord-est. Nessuno come loro hanno capito meglio Roma, hanno capito meglio loro di noi romani. Quindi Flaiano mi ha aiutato a capire meglio Roma, Fellini mi ha aiutato a capire meglio Roma, Vincenzoni mi ha aiutato a capire meglio la società di quel periodo, romana soprattutto, Sonego. Mettiamoci anche a Pasolini perché Pasolini è un uomo del nord-est. Tutti hanno capito meglio Roma e quindi ci hanno in qualche modo illuminato. Il Flaiano avrebbe apprezzato sicuramente la tanta ironia che c'è anche nel libro, quindi sicuramente sì.